Ancora un esempio in città di come i soliti ignoti si rendano sempre protagonisti di episodi di dubbio gusto e della mancanza di rispetto del bene pubblico. Se ne sono resi conto questa mattina quanti sono passati sulla terrazza della bellissima Darsena Borghese, uno dei gioielli di Fano, recentemente rimesso a lucido dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, grazie anche al contributo di privati cittadini con un non trascurabile sborso economico che qui nel giardino antistante al vecchio porto ha la sua sede. E proprio nel giardino a disposizione di tutti era collocata fino a ieri sera una panchina in legno per godere di questo suggestivo angolo di città. Ma evidentemente questa piacevolezza e questa bucolica atmosfera non ha ispirato affatto gli animi di ignoti individui poco dotati intellettualmente ma più fisicamente che hanno sradicato dalla sua sede la panchina, hanno saltato la staccionata in legno e l'hanno messa a pied en l'est, praticamente dentro il canale Albani, nel tratto che sfocia nella Darsena. Buon temponi, hanno tirato una panchina in mezza. Finalmente c'è qualcuno che ha voglia di fare un sorriso ed è una cosa molto simpatica di questi tempi. Una boutade simpatica. Certo, è un valore aggiunto soprattutto perché essendo noi ottimisti la prospettiva potrebbe essere leggera rispetto a quello che è l'ambito. Però era meglio di no. Era meglio se stava dove sta. Insomma è una brutta cosa. È una brutta cosa, è maleducazione e inciviltà. Sono contento, tanto voglio dire, tanto chi fa, chi sbaglia non paga mai e allora andiamo avanti sempre così. Ognuno può fare un po' come. Certo, a questo punto sì perché se nessuno paga, chi commette qualcosa, un illecito o qualcos'altro e non paga, si continua a fare, no? Occorrerebbe di più la presenza dello Stato, dell'amministrazione e il controllo. Secondo me sono cose scandalose, incapibili. A di là della burlata insomma. Vabbè, ma è una cosa comune di tutti. Non vedo perché debba stare lì e non vedo soprattutto perché qualcuno non la va a togliere. Hanno tirato la panchina in mezzo al canale. Questa l'avevo mai vista. L'hai vista? Bellissima. Per chi è che per rinfrescarsi un po' andrebbe meglio d'estate. Lui si rinfresca, sta con i piedi e bagna, lui si rinfresca. Si mette con le gambe a penzolone. Esatto, non è pensata male. Io le parole le ho finite, le ho viste tutte. Questa è la prima vista comunque.